Beh, rimangono solo le campanelle e lo strumentopolo misterioso. Hmm, secondo voi possiamo usare le campanelle per avvertire la gente che stiamo passando con la slitta di Pietro? Ma certo! Quelle campanelle dovrebbero produrre un tintinio abbastanza forte, beh direi che ci siamo! Oh, come sono chic! Ehi, guardate, è il nostro amico Andy! Sì, Umi-Zumi, mi trovo all'aeroporto di Umi e ho bisogno del vostro aiuto. Qual è il problema, Andy? Sono su un aeroplano con la mia famiglia, saremmo dovuti partire per andare tutti al mare, ma il pilota ha detto che l'aereo non è ancora pronto. Adesso dobbiamo rimettere a posto i blocchi che sospengono i ponti. Ora abbiamo il via libera, amico Umi! Le luci sono diventate verdi e l'aereo può partire! Davvero un bel ballo, amici miei! Come la mia pecorella di peluche! Non preoccuparti, Daisy, troveremo un nuovo amico per la tua pecorella! Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme! È un tucano! Wow! Ma come facciamo a superare tutti questi costumi appesi? Povero Pato! Sapete dire a Pato quanti cuori ci sono? Two! Two hearts! Two hearts! Two! Due! Esatto!